ti accordiamo? pronti? dai 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 20, 22, 15, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 20, 22, 24, 25, 20. Segan venire il violista, che sono sempre il punto all'orchestra, alla mattina quando arriva su, sapere che te senti grande. E poi a Gratino, la coppa a Varo Pestà, portate qui in qui in noi, vedi noi che cosa sarà. Segan venire il vero acqua del giù, sapere che me le senti grande. Poi puoi aprire il colpacchino, ci raccattano il pennello, mangatemi all'inquilino, e di noi che cosa? L'acqua per il inquilino, e di noi che cosa sarà? Anni sono lenticchie, piselle e banani, e la mattina quando è venzione, ci raccattano il pennello, e di noi che cosa sarà? Grazie per la visione!